Lavoratori scientifici. Ci sono molti lavori scientifici che vogliono accaparrarsi qualche scoperta completamente, anche guardando YouTube completamente. Allora, la tecnica per tornare in vita le persone con la morte cerebrale, per la scienza non c'è cura, a meno che aprendo la scatola cranica, ma lo facciamo come il dottor Franksten, un scienziato un po' pazzotto come scienziato, con i suoi cervelli. Allora, si possono fare interventi dall'esterno senza aprire la scatola cranica, senza segno di incisione completamente. È una tecnica che voi terrestri viene molto difficile farla. Forse per noi di origine aliena potrebbe essere più facile fare certe tecniche. Allora, una persona muore di infarto cerebrale. Cioè, sono molte persone che hanno infarto cerebrale. Voi direte, sì, aprire la scatola cranica e inserire un microchip, un piccolissimo microchip, come ho indicato il puntino rotondo, nel foglio, un piccolissimo microchip potrebbe riattivare la vena del cervello. Ma questa è roba del futuro, non è roba di adesso, dell'anno 2014. Forse nel futuro potremmo arrivare su questa tecnica, potete arrivare voi scienziati su questa tecnica qui. Ma per me sarebbe più possibile, completamente, riparare la persona dall'esterno, la vena del cervello, senza aprire. Una riparazione dall'esterno, senza segno di incisioni, come hanno visto nel caso di mia madre, Ferro Giovanna, nell'ospedale. Beh, avessi la fotografia, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho la fotografia del passato. E con mia zia che la sta pulendo. Ecco, quella in vetta in bianco è Ferro Giovanna. Aspetta vediamo così più chiaro. E così vai più chiaro. Allora, mia zia la stava pulendo. Mia madre non parlava, se non parlava perché aveva la vena del cervello completamente spezzata. Era alimentata anche della flebo, non reagiva, non reagiva a niente. Un giorno parlando con un'amica, un'amica di nome Francesca di Cagliari, mi ha detto Rubi prova a tentare, in aiuto ho visto fare certe cose che non riesce a risolvere nemmeno la scienza completamente. Allora, quindi ho provato per sette giorni a settimana, gli ho passato la mano sulla fronte, facevo le domande tutti i giorni e lei quasi quasi rispondeva alle domande, non perfettamente, poi il settimo giorno ha risposto veramente bene alle domande. Me ne vado dall'ospedale, poi il lunedì sento una telefonata, la sua dottoressa, signor Spia, non è normale sua madre, ma cos'è, è morta mia madre? No, no, non è morta, non è normale per quello che ha avuto, l'abbiamo controllata, abbiamo fatto un'allastra. Allora, c'è qualcosa di strano sulla lastra, insomma, si precipita all'ospedale. Io sono andato all'ospedale, mi sono precipitato sul caso, mi hanno fatto vedere due computer, il primo aveva la vena del cervello spezzata, il secondo aveva la vena del cervello ricongiunta con precisione. Cosa è successo? Nell'ospedale c'era la videocamera, la videosorveglianza, mi hanno sorpreso completamente applicare la tecnica aliena su mia madre, mia madre è tornata in vita, è tornata in vita veramente, non so mica scherzando. E' una tecnica provata per la prima volta, ho voluto salvare mia madre, per la prima volta provai quella tecnica, non l'avevo mai provata prima, perché c'è la scatola cranica, viene impossibile saldare una vena del cervello, bisogna aprire la scatola cranica per saldarla, invece no, dall'esterno è stata saldata la vena del cervello, un intervento dall'esterno. Loro mi hanno detto, non abbiamo trovato né segni di incisione, sotto l'orecchio, niente, via nasale, niente, come fanno i grigi, mi hanno detto, ma io non sono un grigio, io sono umano, non sono un grigio. Il grigio utilizza una tecnica molto diversa, via nasale, sondino, inseriscono i microchip, non abbiamo sentito nessun microchip, in effetti lei ha detto, abbiamo fatto la lastra, non abbiamo trovato il microchip, però dobbiamo fare più lastre per trovare il microchip, in qualche punto sarà questo microchip. Ecco, alieni nell'ospedale non ne sono entrati, UFO sopra niente, dalla videocamera, abbiamo esaminato la videosorveglianza, non c'è stato niente di UFO, alieni dentro l'ospedale niente, eccetto un filmino che abbiamo come prova. Come fa a saldare le vena del cervello dall'esterno? Allora, se io vi insegno la tecnica, non ci riuscite, penso che sia un dono naturale, portiamo in reparto, venga in reparto, abbiamo molte persone con questo problema, cioè visto le persone che avevano il problema, la tecnica ha detto, qual è la tecnica per fare questa tecnica aliena, come si applica? Non ci riuscite a farla, se io ve la insegno non ci riuscite, ha detto, potremmo salvare molte persone, niente da fare, non ci riuscite. Visto il DVD, la prova che mi ha sorpreso applicare la tecnica, sì, ha detto, però mia madre è tornata in vita, quindi il ragionamento non è che uno dica, uccido mia madre, come ha detto Bruno Badas, io mia madre l'ho tornata sempre in vita, qualunque problema ha avuto l'ho tornata in vita, non l'ho mai uccisa, la volevo bene perché lei mi ha levato e mi ha cresciuto, come un figlio. Eravamo attaccati insieme io e lei. Quindi è durata tre anni con quella tecnica, tre anni completamente di vita, forse se avrei applicato l'acqua, l'elemento che mi mancava, l'acqua, forse una doccia, sarebbe durata almeno dieci anni una doccia, probabilità, perché la trasmissione sarebbe avvenuta in tutto il corpo dell'energia vitale. Un ibrido trasmette energia vitale sulle persone, è così. Ci sono molti lavoratori che vogliono affoppiarsi di tale scoperta come scientifica. Questa si tratta di una scoperta del tutto impossibile completamente per la scienza, cioè la scienza non può mai arrivare a queste cose. E poi tutto naturale, io lo vedo che è naturale. Come, ad esempio, mia madre, nella foto, notiamo, sulla foto, bella giovanissima, guardate questa foto veramente eccezionale. Se riusciamo a vederla nel computer, vediamo un po', eccola, sorridenta e bella, per l'età che aveva non dimostrava di avere quell'età. Noi possiamo passare la mano sulla fronte di una persona, possiamo anche ringiovanire una persona. Senza utilizzo di cosmetici vari, senza niente, naturale completamente. Cioè, se qualcuno è interessato alla mia tecnica, anche qualche persona è interessata, la tecnica potrebbe dare sviluppo a un paese, e potrebbe dare anche lavoro a altre persone la tecnica. Dove trovarmi in questo YouTube? Me lo commentate, YouTube, me lo interagiate su Facebook completamente. Solo che su Facebook, Roberto Spiga, su Facebook, Roberto Spiga, riconoscibile completamente, dà un disegno sulla fronte, nella foto, scritture tipo girolifiche egiziane, la nuova copertina. Allora, adesso vorrei parlarvi anche sempre di mia madre, certo, sempre di lei, certo. Come può essere possibile che una potrebbe essere sopravvissuta, è morta il giorno 31, trovata morta buttata per terra, e si è sopravvissuta fino al giorno 29 2013, su un corpo morto, autorigenerato al 50% solo, perché mancava la seconda autorigenerazione, che sarebbe tutto il corpo mancante, braccia, gambe, piedi, e tutto il corpo esterno, d'autore generale. Cioè abbiamo visto che lei poteva parlare solo a contatto mio. In quel filmino che avete visto, io prima le ho poggiato la mano sulla spalla, quindi ha preso vita, quindi ha potuto parlare, ho preso la videocamera come prova del giorno 2. Ed è vissuta fino alle 3, qualcosa, 3 e mezza del mattino, insomma, a quell'ora di Uli, sono rimasto con lei tutta la notte, ha voluto anche desideri, ha voluto mangiare. Come mi sembra una cosa strana, che un corpo morto possa anche mangiare, certo. Abbiamo visto questa, io l'ho vista e l'ho documentato solo quel pezzo, ma non il pezzo di mangiare, quello non l'ho documentato, non sono riuscito perché lei era girata, quella si è sollevata da sola, quindi mi sono anche perfino spaventato sul caso. Poi ci ho riflettuto e ho detto, ma sì, sono andato io a dargli vita, perché un corpo morto non può tornare in vita da solo. Voi io penso che non vi spaventate, come scrivono su Facebook, rubi, c'ho paura. Insomma, la mia amica pompina Troietta dice, c'ho paura di queste cose. Metto come registrazione, non vi ha dato neanche i miei 18 anni, tutti possono seguire i miei YouTube, i miei YouTube, possono seguirli tutti. A me mi ha incuriosito molto una cosa, nel YouTube di mia madre, quello musicale, YouTube, dove il primo è trovata morta, non aveva questo ematoma. Vediamo se lo vedete in una videocamera, ecco qui il ematoma. Ok. Allora, secondo il medico legale, mia madre è caduta a un posto molto alto per farsi un ematoma così. Dal comodino non può essere fatta un ematoma cadendo da 40 cm o da 30 cm il letto. Deve essere caduta da un posto molto alto, come da un primo piano alla strada. Se mia madre era sempre coricata in quel letto, come poteva farsi un ematoma così strano? Non capisco, sul filmino l'ematoma non c'è. Sulle foto della morte c'è l'ematoma, un ematoma gigantesco. Lo vediamo bene, sì, lo vediamo bene. Eccolo qui, l'ematoma gigantesco, che comprende anche il naso. Quindi c'è anche il naso pestato, oltre a questo ematoma. È strano, cioè io non capisco niente sull'ematoma. Non posso dare spiegazione, perché ancora non ho ancora le prove sull'ematoma, come si può essere fatta, quindi non capisco come si può essere fatta l'ematoma. Quando l'ho spostata, l'ematoma non ne aveva, non ne aveva niente, come nel filmino. Quindi è una cosa molto strana questo ematoma. Chi gliel'ha fatto non lo so. Per me si possono, le persone che hanno morte cerebrale, si possono, si può guarire della morte cerebrale. Si può riparare la vena del cervello dall'esterno, se qualche chirurgo riesce a farlo, ma non riescono a farlo. È impossibile che i terrestri possano fare queste cose. È impossibile, ve lo dico già chiaro. Quindi, tornando a parlare del foglio, dice microchip. Il microchip è quello che ho segnato, quel tondino che ho segnato, quel cerchietto, è un microchip. Nel futuro le persone di morte cerebrale si possono riparare aprendo la scatola cranica e inserendo un microchip, che riattiva quella vena, quindi la ricongiunge completamente. Quindi, si spezza la vena del cervello, una persona non può più parlare, non può più camminare, rimane completamente morta e vegetativa. Mentre qui a Monserrato, Paoli, abbiamo la tecnica per risaldare la vena del cervello dall'esterno. Si potrebbe provare in via manuale o anche a contatto con l'acqua, facendo una doccia a una persona. Quella persona faceva una doccia, quindi l'energia si trasmette in tutto il corpo, quella doccia. Mentre via manuale, solo nel cervello, via manuale. Quindi l'attivazione di questa vena del cervello principale è la vena che permette a una persona di parlare, di camminare. Se quella vena si spezza, non può fare niente. Quindi, una persona rimane immobile in un letto, completamente morto. Il caso di mia madre, Ferro Giovanna, è così. Il dottore mi ha detto, si prepari a prendere due donne, una la mattina e una la sera, perché sua madre non si rialza più dal letto. Non abbiamo la tecnologia per fare queste cose, non solo gli alieni possono fare la tecnologia, questa tecnica. Forse i grigi. Ma i grigi non hanno la tecnica come la nostra. Noi abbiamo una tecnica tutta naturale, che possiamo riparare nel cervello e dall'esterno. Se qualche persona è interessata, completamente acquisirmi, mi può acquisire completamente, comprare. Non offrendomi cifre da capogiro, completamente. Però fare lavorare anche altre persone. Anche una persona come me. Allora, la tecnica dell'autorigenerazione è una tecnica aliena. Nessun terrestre riesce a farla. Nessun prete, nessuno. L'autorigenerazione con l'acqua. Con l'acqua è una tecnica provata per la prima volta. Fu provata per la prima volta al giorno 31.08.2013. Mentre la tecnica via manuale per l'autorigenerazione è provata più volte, perché mi sono recato in sala mortuaria, ho tornato morti in vita. E poi sono andato via per evitare, per evitare di essere, perché nel passato è capitato che ero piccolo, avevo tornato in vita una donna morta in sala mortuaria e mi hanno messo nel giornale. Dieci testimoni, non c'erano le videocamere, dieci testimoni. Tutti hanno testimoniato la solita cosa. Il giornalista ha messo la mia abitazione nel giornale. Mio padre è andato con i militari a sequestrare i giornali dell'Unione Sarda, con un amico colonnello. Leggono quest'articolo, esatto, speriamo che passi per uno scherzo, che non ci faccia a caso nessuno sull'articolo del giornale. Era in prima pagina. Ero minorenne, avevano messo i miei iniziali del mio cognome, via San Gavino, Monreale, il mio numero, la mia abitazione. Mio padre si è molto arrabbiato con l'imprenditore Nicky Grauso. Ho scoperto il nome del giornalista, licenziato da Nicky Grauso, dall'imprenditore Nicky Grauso in quel periodo. Non vi dico chi è il nome, ogni volta che vado a registrare i miei filmini video, politici, mi incontro sempre il giornalista. Cioè lui, il motivo con cui è stato licenziato, forse il motivo era quello, perché si era messo a far pubblicare questo articolo nel giornale. I miei genitori erano molto arrabbiati, specialmente mio padre. Mi ha detto, ma hai visto cosa hai fatto? Adesso scoprono tutto. Mi ha detto, che cosa scoprono? Scoprono tutto, scoprono. Adesso non devi fare questo di tornare morti in vita. Adesso gli umani non ci riescono a fare queste cose. Quindi passarono molti anni, completamente anni e anni. E mio padre morì. Però questa tecnica l'appliccai anche su un bambino che c'era ricoverato all'ospedale Bruzzo, stava morendo. Sono entrato per puro caso, perché sono andato all'avviso a dare del sangue, all'avviso dell'ospedale Bruzzo, cioè trasfusione di sangue, e sono andato nel reparto bambini, per puro caso così. Sono entrato in questa stanza, ho visto questo bambino, e la madre mi ha detto, ma il bambino sta morendo. Io gli ho detto, io potrei essere l'unica speranza per il bambino, l'ultima speranza. Si fida di me? E lei mi ha detto, sì, mi fido. Ho toccato il bambino, gli ho detto, quando me ne vado, il bambino sarà guarito e così sia. Sono arrivato a casa, alle due ho acceso la tv, videolina, e ho sentito i dottori in miracolo all'ospedale Bruzzo, è guento di una strana malattia. La madre mi aveva fatto un identikit al televisore, per ringraziarmi, ma non mi sono presentato, perché avevo già un problema con quel giornalista che mi ha fatto l'articolo nel giornale. Cioè, lui continua a dire che la storia, sì, la storia è vera, quella storia, è vera, veramente è vera quello che ha scritto. Ci sono i testimoni, dieci testimoni, posso confermare che è vera. E però riguardava completamente i miei problemi della mia praga, ero mi non è n. E poi i miei genitori, sulle furie completamente sul caso. Non avevo fatto una cosa brutta, avevo tornato in vita solo una morta, una donna morta. La figlia diceva, mamma, dove ho messo il testamento? La mamma, certo, non rispondeva perché era morta, quindi l'ho toccata e ha preso vita. E la madre rispondeva alla figlia. E così hanno chiamato il giornalista e ha pubblicato l'articolo nel giornale. Per me non è una notizia proprio notizia brutta, è una notizia buona. Cioè, se uno può salvare una persona, è meglio salvare una persona che sotterrarla. Meglio salvarla. Quindi nel caso di mia mamma avrebbe fatto, se io avessi continuato quella tecnica dell'acqua, l'avrei recuperata in pieno, cioè gli avrei salvato la vita dalla morte, l'avrei salvata dalla morte, perché la potevo salvare dalla morte. Lei mi diceva, mi devi autorigenerare, ma sono quattro volte. Quattro volte io violo le leggi di Yahweh, non posso violare le leggi di Dio quattro volte. Posso dare vita solo due volte o tre volte in eccezione, ma non quattro volte. Lei ha voluto, voglio diventare più bella, voglio che le rughe non si vedano, voglio diventare più giovane. Certo, l'ho soddisfatta di tutti i desideri che le mi ha chiesto. Ma altro non posso fare. È già molto che ho vissuto tre giorni su un corpo morto. Voi direte una cosa impossibile. Per la scienza è tutto impossibile. Per me è possibile. Quello che è fantascienza è possibile in realtà. Grazie di avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo YouTube. Grazie a tutti.